Salve amici del Centrometto Italiano, weekend che riporta qualche temporale su alcune regioni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 6 luglio. Nuvolosità irregolare al mattino al nord ovest ma senza fenomeni di rilievo e sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibilità di piogge e temporali sparsi specie su Alpi centro-occidentali e Piemonte ed ampi spazi di sereno al centro-sud. In serata è nottata ancora fenomeni al nord, in sconfinamento delle Alpi verso le pianure e nessuna variazione altrove. Temperature minime, massime e stabili o in generale rialzo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centrometto Italiano.